Sono Nevio Toneatto, sono il responsabile tecnico del Consorzio per la tutela del formaggio Montasio. Da 35 anni seguo l'evolversi di questo meraviglioso prodotto in tutta l'area di produzione. Il Montasio è un formaggio che appartiene alla grande famiglia dei formaggi alpini. Nella stagionatura del mezzano acquisisce profumi e sapori più intensi rispetto ai formaggi meno stagionati. Il segreto è che durante la stagionatura gli enzimi affinano il formaggio, producendo il tipico aroma del Montasio mezzano. È ricco di grassi e carotenoidi. In particolare le produzioni in Malga, con latte di vacca alpascolo, arricchiscono ancora di più il Montasio dai particolari sentori delle essenze di montagna. L'elevata qualità del Montasio di Malga è data dalla stretta collaborazione fra il pastore e il casaro. Risulta determinante per il casaro sapere che erba hanno mangiato durante il giorno le vacche. In questo modo può regolare la lavorazione modificando leggermente i tempi e le temperature di cottura della cagliata. Ed è in questo modo che possono essere esaltate le caratteristiche del latte, creando le migliori condizioni perché i microrganismi prima e gli enzimi poi possano lavorare al meglio. Il risultato è una magica esplosione di profumi e sapori che ricordano al consumatore i pascoli della montagna.